Comune di Battipaglia rende noto che inizieranno i lavori per l'adeguamento dell'attraversamento stradale di via del Centenario. Il dirigente del settore tecnico, si legge, ordina la chiusura di via del Centenario delle ore 7 di martedì 10 luglio 2018, fino alla fine dell'ultimazione dei lavori. Viene inoltre messo in chiaro che la chiusura della gareggiata di via del Centenario nel tratto di strada, compreso da via Adice, prima del chiosco adibito alla vendita di giornali ubicato di fronte al Civico 124, destinato alla sola circolare veicolare in ingresso con provenienza lato centro con direzione autostradale Salerno-Reggio Carabria e previsto a seguito dei lavori di adeguamento dell'attraversamento stradale.